e benvenuti che siamo in questo nuovo video, in questo secondo episodio di Head Basketball direi di iniziare subito affrontando Jacob, ovvero il Canada perfetto iniziata, ok da un po' che non ci gioco, un mese praticamente dall'ultimo video ok, proviamo a saltare, doppio salto, niente siamo sempre in questa zona, occhio, ok, niente autorete, l'autopunto non so ok quasi, e vai, ne punti occhio al suo potere, è forte pure noi abbiamo il potere, vabbè si è fatto con lui posso tirare autocal, va bene, ogni tanto tirare autopunto viene spontaneo tirare autocal, dai potrebbe entrare anche così no? la devo prendere io prima che la prenda lui l'ha fatta lui, provo a bloccarlo niente ok, questo è mio vai, punto 9 a 6 lui ha fatto punto, però solamente con i poteri va bene dai iiii, che fortuna, non è riuscito a bloccarlo meno male occhio mi ha gelato occhio ragazzi, occhio che cosa è successo? ha vinto, è finita ora giochiamo contro Tyler e penso sia uno a 0 se non sbaglio ok, si stava per fare autogol autopunto dai, fatto, perfetto due punti, non tre, perché stavamo nella sua a metà di campo ok vai non so ragazzi se si può fare anche tipo 2 contro 2 ma non penso perché di solito questi giochi qua creati da questa, da questa, da questa casa diciamo e sono tutti così uno contro uno occhio niente 5 a 5 ok l'ho lisciata oh il potere perché non l'ho preso subito vai ok 8 a 5 ragazzi nel frattempo lui ha pareggiato io stavo abbassando il volume perché era troppo alto comunque 11 a 8 no salta perfetto così è entrata due punti non so perché forse l'ho toccata prima che entrasse in questa metà di campo e quando entrava nella sua metà no non l'ho presa ok ah ma quando fai il doppio salto il mio fa la capriola guardate no forse solo con il potere fa la capriola vai perfetto 19 a 11 abbiamo praticamente vinto ok occhio qua il potere la palla la dimentica da là va bene ma è finita ragazzi 19 a 14 perfetto adesso giochiamo contro il Brasile e vediamo un attimo qua in alto dobbiamo vincere senza senza il potere senza usare il potere questo è abbastanza facile va bene punto per lei subito oppure senza dare swing quindi senza il pugno praticamente senza usare le mani ho scoperto adesso che c'è me l'ho dimenticato la corsa diciamo lo scatto devo cliccare due volte R però adesso non lo userai in questa partita non so cosa succede se non li uso forse se proprio il personaggio cioè questo si eh però magari non devo usarli proprio non devo usare proprio nessuno di questi dopo andrò a leggere tutto ok niente ah ho usato il doppio salto non so perché anche la corsa mi ha messo forse ho cliccato due volte per sbaglio va bene adesso possiamo provare con la doppia corsa ah ok si dalle nuvolette quando usiamo la doppia corsa usiamo il potere ormai tanto ancora lo swing però non l'abbiamo usato eh dai perfetto due punti non pensavo però stiamo perdendo eh non me ne sono accorto eh mi sa che questa è persa eh si me la dovrò rigiocare ho pensato troppo a queste cose i poteri il doppio salto e quindi lo scatto e quindi non mi sono concentrato sulla partita si rigioca adesso impegniamoci salta bene niente uso il pugno ancora non è il momento di di non usare le cose diciamo devo ancora leggere i personaggi che si sbloccheranno facendo così quindi per ora giochiamo bene no mi ha fulminato e punto non ci credo almeno sono due punti attenzione beh questo è forte eh ha un potere che è fortissimo speriamo non blocchi la mia mossa l'ha bloccata non ci credo e ha fatto punto è un po' fortunata perché ha questo potere è molto forte eh però è un buon personaggio cioè provo a metterla al muro ok che è successo si entra all'incredibile perfetto 5 a 8 però non ce la faremo mai se fa punto ora se fa punto ora è difficile eh sta diventando molto difficile però adesso punto 7 a 11 mi servono un punto da 3 un punto da 2 anche andrebbero bene però vai non ci credo io come la blocca adesso l'ho lisciato però non ci sono arrivato non ci credo è finita è finita e si e si rigioca di nuovo per la terza volta vai ok provo ad usare il pugno ah io ho fatto male no no mi devo usare prima io il potere che è lei non ci credo dai e vai che fortuna che è fortunato che sono stata adesso posso saltare al momento giusto ho usato un altro tipo di potere non so perché va bene dai e vai 6 a 5 ok ragazzi perché la palla è là mi avvicino adesso no non ci credo e niente in questo video sono stato molto sfortunato diciamo perfetto 8 a 8 se la prendo faccio il punto perfetto 11 a 8 io direi di difendere più che attaccare perché lei ha questo potere veramente forte e niente è imbloccabile no 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 non ci credo si 14-11 3 punti dai mancano 5 secondi e l'abbiamo chiusa ora 2 secondi va bene ma tanto è finita ultima partita giochiamo contro Lucas l'argentino già la vedo come una partita difficilissima infatti subito grazie a per lui dai e vai no ancora no si perfetto dobbiamo saltare no ok 6 a 3 stiamo vincendo oh no l'ho l'ho licciata il primo fulmine però niente al secondo se la faccio 8 a 6 2 punti perché l'ha toccata lui ce la possiamo fare a vincere questa partita 11-6 sta andando molto bene nonostante sia difficilissima occhio e niente ha fatto il punto così ragazzi stiamo 17-09 mancano 20 secondi adesso 17-12 ok provo a spostarlo verso la mia rete e verso il mio canestro scusate comunque qua ha fatto punto la tattica ha funzionato occhio che si entra può riaprire i giochi ah no 2 punti non 3 quindi siamo ancora in vantaggio netto vantaggio perfetto secondo me è chiuso si è impossibile che riesca a vincere questa partita dovrebbe fare un punto ma è finita è finita perfetto pure noi la chiudiamo così 24-17 e sono diventato livello 6 cioè penso che il mio personaggio sia diventato livello 6 comunque spero che questo secondo episodio di Head Basketball scusatemi che questo secondo episodio di Head Basketball vi sia piaciuto io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo in un prossimo video bella